Il Natale a Firenze è più bello se? Il Natale è più bello a Firenze se? Se c'è bel tempo e c'è tanta gente. Se nevia. Che la gente fosse un po' più pulita, sporcasse meno e fosse un po' più educata. Non chiedo soldi perché abbiamo... Parliamo in presenza dell'avvocato, vai. Serve un po' più tranquillità, un po' più sicurezza, un po' più tutto. Come si dice? Tu non si mette tutte le palline. L'albero di Natale. Hai visto il Natale a Firenze? E sono nata a Firenze. Allora mi sono disse ma non siamo. Se siamo tutti insieme. È bello, bello. Sia per Natale, sia per Pasqua, tutto uguale per me. Non so che vuol dire tutto questo. Il più bello di Firenze non si trova. Dico bene. Se si mangiamo più bello. Il Natale a Firenze è più bello se? Se mangiamo il pandoro. Se tutti avessimo la possibilità di baciarci sotto al vischio senza avere paura. Non mi vengono questi. È più bello sempre. Come stai riprendendo? No, non fai il bico. Il Natale a Firenze è bello sempre perché Firenze è stupenda. Se però vinco la lotteria è più bello ancora. La Firenze è vincente un pochino, guarda, mi creda. Se ci fosse meno freddo sarebbe molto meglio. Questa è una bella domanda. Passa domani e ti rispondo. Se ci sono più soldi. Se uno regala un fiore è la cosa più bella perché nutre lo spirito. L'ha un prodotto o non l'ha un prodotto, l'ha un prodotto. L'ha un prodotto, l'ha un prodotto, l'ha un prodotto. Uno, due, tre. Buon Natale!